Allora, diciamo, il vantaggio di essere regione istituto speciale non è quello di avere più soldi, perché non è così, ma è quello di poter disporre, come dire, più liberamente delle proprie risorse. Allora, diciamo, se noi dobbiamo considerare, ad esempio, che la regione, la provincia Giulia, ha una competenza esclusiva in materia di sanità, che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che risparmiamo in materia di sanità possiamo mettere in altri settori. E alla fin fine noi risparmiamo molto in alcuni settori, cercando di ottimizzare la spesa. E questo abbiamo un beneficio nella libertà di programmazione, anche in questo caso la cultura, dove, se consideriamo il procapite, io credo che investiamo dieci volte tanto il Veneto. Dopo è una scelta politica, è una scelta di area, insomma, no? Ecco, però è una scelta che è permessa dalla nostra specialità, che però non deriva dalla buona amministrazione, deriva dai problemi di confine, deriva dai problemi di competizione che il dopoguerra ci ha lasciato, deriva da avere quattro lingue invece che una, quindi anche con una serie di necessità diverse. Noi riteniamo che, diciamo, non facendoci gara a chi ci fa dispetti, ma cercando di lavorare assieme, potremo portare delle buone pratiche, dovute alla nostra modalità di investimento, di regione speciale, anche in Veneto, cercando anche assieme di rivendicare, anche per il Veneto, diciamo, un'autonomia maggiore in alcune funzioni culturali, che secondo me potrebbero essere uno strumento utile per il rilancio di un territorio più ampio, come tutto il nord-est.